Salvo Iacono, commissario d'acta della Camera di Commercio di Agrigento. Oggi vengono premiati i ragazzi che hanno partecipato al concorso Disegna la Legalità. Salve, io è da poco che mi sono stato incaricato come commissario d'acta per la Camera di Commercio. Tra le prime cose ho notato l'organizzazione e la conseguente premiazione di un progetto che va avanti dal 2010, che è un concorso che è intitolato Disegna la Legalità. In un'ottica di legalità, di promozione della stessa legalità e della libera comprenenza del pubblico mercato la Camera di Commercio si pone al centro di una dialettica tendente a formare i giovani fin dalle scuole elementari a questa cultura della legalità che occorre e rispetto alla quale non perdere mai attenzione su questa cosa ma implementarla nel corso degli anni. Oggi avverrà la premiazione di una serie di alunni, ce n'è uno che proviene da Cuneo, un altro da Brindisi, che consentono a questo concorso di proiettarlo a livello nazionale per tutte le scuole d'Italia. La manifestazione che dura soltanto stamattina, che consiste nella premiazione degli alunni accompagnati dalle professoresse, mette in evidenza quelle che sono le attività peculiari della Camera di Commercio, che oltre ad essere volano e a dovere rappresentare il volano del commercio e dell'evoluzione tecnologica e sempre ambientata nel commercio, riesce ad entrare in vari settori totali, anche nella scuola, implementando e educando i giovani a una mentalità di legalità che serve e rispetto alla quale necessita non distogliere mai l'attenzione su questo argomento.